oh molto bene ragazzi mi ha fatto enormemente piacere vedere come voi offego tangolare abbiate risposto in maniera così positiva a questa mia nuova rubrica così si fa cazzo voilà come promisi nella puntata zero di alcuni giorni fa ho scelto l'argomento per questa nuova birretta angolare leggendo i vostri commenti perché alcuni fra voi muovendo critiche oppure elogiando l'ombra di mordor hanno chiesto il mio parere riguardo il nuovo 3ds la console il modello di console nuovo rilasciato recentemente da nintendo è una console da comprare quando venne annunciato la maggior parte di noi videogiocatori minchioni reagì più o meno in questa maniera personalmente rimasi piuttosto colpito da questa nuova versione non tanto per il fatto che uscisse in quanto nintendo ci aveva già abituati a cagare numerose versioni della stessa console come anche fece in passato la concorrenza e fa tuttora quanto per le caratteristiche hardware introdotte non indifferenti come sapete tutti si parla di due dorsali in più di miglioramenti dal punto di vista hardware che avrebbero dovuto velocizzare i caricamenti di app e giochi di una maggiore stabilità della visualizzazione in 3d dei giochi e soprattutto il capezzolo in più se questi miglioramenti fecero gola a molti videogiocatori facendo loro prendere in considerazione l'idea di rottamare quel cazzo di catorcio di 3ds che già avevano in casa da un anno un'altra notizia sconvolse la vita di molti altri pisellini l'annuncio del remake di xenoblade chronicles in esclusiva per il nuovo 3ds costrinse molti giocatori a pensare ecco porca puttana ora usciranno sono videogiochi esclusivi per la nuova console e io che ho il 3ds vecchio rimango fottuto nintendo merda giapponesi del cazzo dio cantante folk ora riguardo quest'ultima affermazione reputo piuttosto remota l'ipotesi che nintendo da un giorno con l'altro decida di dare il terzo dito alle decine decine di milioni di videogiocatori già in possesso di un 3ds mi pare più possibile più plausibile che un domani possano uscire dei titoli con delle caratteristiche esclusive con delle feature esclusive per chi ha il nuovo modello della console ma da qui a pensare a giochi esclusivi solo per il nuovo 3ds ma secondo me non saranno poi così tanti riguardo invece miglioramenti hardware come già detto in altre occasioni sì ho reputato queste novità interessanti ma che sinceramente non mi avrebbero spinto a sborsare altro denaro per avere un'altra versione di una console già in mio possesso o almeno così pensavo grazie ai ragazzi del podcast nonché trasmissione radiofonica una settimana da nerd con cui ho passato la giornata di sabato al mantova comics ho avuto modo di mettere mano all'ultima versione all'ultimo modello del 3ds con monster hunter analizziamone le novità i caricamenti del gioco sembrano davvero piuttosto rapidi per il mio 3ds non ho monster hunter quindi non riesco a paragonarlo però mi è sembrato che l'avvio di questo gioco fosse decisamente più veloce rispetto ad altri titoli mio possesso boh lasciamo il beneficio dal dubbio magari voi nei commenti mi saprete fare un paragone più preciso capezzolo destro non è un analogico è una specie di stick un po strano ma la sua funzione di cambio in quadratura sembra fare il suo sporco lavoro non è comunque sensibile come un analogico più classico quindi nell'ipotesi di un fps piuttosto di giocare a un titolo in prima persona sul 3ds con quel cazzo di stick non lo so preferirei cazzo comprare un apple watch la nuova disposizione dei tasti mi ha segnato la vita tanto quanto un qualsiasi video di gameplay sul tubo i due dorsali in più sono due dorsali in più ma dulcis in fondo il 3d funziona l'effetto 3d del nuovo 3ds funziona e funziona decisamente meglio rispetto a quello del vecchio 3ds seppure in tutti questi anni di 3ds possa affermare di aver goduto sapientemente dell'effetto 3d praticamente solo con mario 3d land e con a link between words non posso non ammettere che l'effetto 3d ora sia stato notevolmente stabilizzato possiamo inclinare maggiormente le braccia la testa e l'immagine non si sputtana più o quasi capitava infatti che ogni due tre minuti di gioco all'improvviso l'immagine si sminchiasse ma mi è stato assicurato che si tratta di un problema relativo solamente a monster hunter e solamente tenendo al massimo tenendo a cannella la levetta del 3d che dire dopo tutto sommato questa esperienza positiva ho deciso di acquistare questa nuova versione di 3ds col cazzo se non avessi già un 3ds in casa sicuramente acquisterai quest'ultima versione ma le novità introdotte e soprattutto dopo averlo provato diciamo che non mi è venuta voglia di acquistarlo neppure se domani dovesse uscire un nuovo capitolo di zelda mai visto prima con annessa nuova console anche perché diciamocelo ragazzi la vera novità dopo il secondo analogico o stick che dir si voglia è appunto l'effetto 3d stabilizzato però figa dopo una sessione estenuante di 10 minuti di gioco se questi miglioramenti fecero porco diaz riguardo invece riguardo invece i miglioramenti hardware come già detto grazie come già porco diaz puttana un'altra notizia sconvolse la vita di molti altri pisellini brrrr purr 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 xide Grazie.